Allora, bambini, siamo venuti a consegnarvi dei piatti che provengono da quella fabbrica della Toscana, ve lo ricordate quel signore Giovanni? Sì, sì! Ecco, allora, questi piatti provengono da quella fabbrica, ve li ha donati un ristorante che si forniva da questa fabbrica di Avellino e il ristorante delle Rose. Ognuno di voi avrà un piatto per ricordo di questa bella esperienza che abbiamo vissuto insieme. Vi mandano tanti saluti tutti quanti gli operai della Ginori. Ciao! Dona un bacio! Non diventare grande mai, non serve a niente sai. Non diventare grande mai, non serve a niente sai.